Emilia Clarke Emilia Clarke, i segreti del make-up irresistibile di Daenerys di Gott Se si guarda Emilia Clarke nelle interviste che rilascia e programmi televisivi, la prima cosa che appare è la sua ironia. Daenerys di Gott infatti è uno new entry dello star system ma ha già conquistato una grande fetta di pubblico, grazie al suo carisma e al suo fascino. La Clarke è una ragazza semplice, non è la modella con una statura slanciata e non ha forme del corpo marmorei, ma è bella proprio per la sua normalità. Anche i suoi make-up e i suoi hair style non sono troppo elaborati, lei stessa ha dichiarato di preferire trucchi essenziali, non eccessivamente carichi ed estrusi, che si addicano alla sua personalità. Ma quali sono i suoi segreti per essere così irresistibile?. Un make-up al passo con i trend. È vero, Emilia Clarke non è una trend setter in fatto di trucchi hair style, ma ama essere informata e sa come dosare in modo impeccabile ogni prodotto per avere la massima resa sul proprio viso. I suoi make-up sono essenziali, equilibrati e rendono sempre un effetto super naturale. Una delle prime cose che risalta del suo viso è la pelle luminosa e senza imperfezioni, l'attrice ha dichiarato però di averla ultra sensibile e quindi, di fare molta fatica a trovare i prodotti giusti che non la irritino. . Così la Clarke applica due volte al giorno con grande rigore un detergente, un tonico e la crema idratante di una linea di prodotti poallergenica, realizzata dal dottor Perricone. . Anche il make-up è rigoroso, ma molto semplice, la star ha affermato di non impiegare mai più di 5 minuti a truccarsi, tranne ovviamente quando è sul set di Game of Thrones. Il suo segreto? Le sismore. . Questo è il consiglio che segue e che si sente di dare a tutte le sue fan. . Un grande aiuto è dato dalle sopracciglia folte con una forma impeccabile, Emily Clarke non le ha mai depilate, nemmeno quando era piccola e così ora si trova ad avere delle sopracciglia perfette che fanno gran parte del suo make-up. . Il focus del suo trucco sono le labbra, l'attrice infatti ama molto giocare e utilizzare anche colori accesi per metterle in evidenza. . I colori caldi del rossetto mettono ancora più in risalto gli occhi verdi e la pelle chiara, ogni tanto, in particolare nelle occasioni importanti e negli eventi di gala, la Clarke ha sfoggiato anche un leggero contouring, per mettere in risalto la forma del viso. . Non c'è make-up senza hair stile, la bellezza di Emilia Clarke. Anche l'hair stile di Emilia Clarke è sempre piuttosto semplice, ma molto curato. . Si potrebbe dire che questa giovane star di Hollywood punti sulla qualità e sulla naturalezza, l'attrice infatti ha confidato di utilizzare molto i prodotti Bumble and Bumble che le permettono di avere capelli sempre lucidi, con una chioma morbida e folta. . Le fan hanno apprezzato molto la sua capigliatura con riga laterale e qualche onda mossa verso le punte dei capelli che ha sfoggiato durante alcune occasioni importanti. . La Clarke in realtà sta molto bene anche con i capelli più corti, con la riga centrale, raccolti all'indietro, in questo modo mette in risalto i lineamenti del suo viso. . Molto affascinante è anche l'hair stile liscio sempre con riga centrale, semplice, ma molto efficace. .